In merito alla presenza della Questura nel Comune di Agropoli, da Palazzo di Città arriva subito la dichiarazione del Sindaco di Agropoli, Adamo Coppola. Questa mattina, personale della Questura di Salerno si è recato presso il Comune di Agropoli per l'acquisizione di atti relativi all'Agropoli Cilento Servizi. Questo ente pubblico, come tutti gli enti, riceve pressoché giornalmente visite di forze di polizia per acquisizione di atti che possono riguardare le più svariate questioni. Come sempre, attendiamo l'esito di tali accertamenti, certi e fiduciosi dell'ottimo lavoro degli operanti, stigmatizzando però la spettacolarizzazione messa in atto da parte di taluni su accadimenti che sono normalità per una pubblica amministrazione.